Sono proprio curiosa di conoscerlo un pochino. È tutto così tanto, troppo. E ti manda in un'altra dimensione. È una bella persona, veramente, ma per davvero. E cadi, cadi. Attenzione. Dario, benvenuto a Axe on the Beach. Prendi per mano Sara e partite per un appuntamento molto particolare e rilassante. Andiamo, Sara. Hai capito la staretta? Sono proprio curiosa di conoscerlo un pochino. Tipo, sai cosa mi viene anche l'ansia adesso? Tipo, per... Per... Giordano. Chi ti interessa di più? Sicuramente non gli mancherei mai di rispetto. Dormendo. A Giordano o a lui? No, a lui. Però, allo stesso tempo, neanche a Giordano. Non solo. È tutto così tanto, troppo. Si vede che c'è ancora amore palese. O no? Cioè, tipo, vorrei ricominciare tutto. Tutto, tutto. Da capo. Il massaggio sonoro è qualcosa di estremamente rilassante. Ti fa perdere la cognizione del tempo e ti manda in un'altra dimensione. C'erano dei rumori bellissimi che ho sentito fino a un certo punto. Sì, si è addormentata e non si svegliava più. Buongiorno. Eccoci arrivati. Questa è la villa. Era come te la immaginavi? Che bello. Wow, enorme. Tutta, tutta bene. Hola. Piacere, Mario. Piacere. Vieni. Eccomi sono tornata. Mi sento molto ristabilizzata. Sara, non so se... Ciao a tutti, ragazzi. Dario, ciao a tutti. Cecilia. Ciao, Cecilia. Perché vi fate questo? Dario. Penso che non si meriti tante cose. Capito? Dario, uno. È una bella persona, veramente. Per davvero. Allora, ti sei vettita? Più bene. Cosa c'hai? Ah, così, niente, ti vedo. Dopo tutto il suo tempo. Ciao. Sei? È un casino. Non mi aspettavo tipo tante cose. Così. Io ho capito, sì, che ci sono delle dinamiche che non ti aspettavi e quindi... Hai conosciuto altre persone e non ne ho pensato mai. No, io devo pensare nel suo senso. Con chi sei stata? E quando è una cosa. Non mi fai tipo questo lato. Ti chiedo, non è giusto. Ok, ma mi guardi così, tipo dall'alto. No, non ti guardo dall'alto, chiesto. Con chi sei stata? Ti chiesto. Per capire. Perché non ci voglio avere che fare. Con chi? Con chi? Non è con chi. Con chi sei stata? Io voglio sapere con chi sei stata. Si spiegano cos'è successo. No, con chi? Con questo qua. No, con chi? Grazie a tutti